Prefettura di Salerno, Istituto Nautico, Giovanni XXIII e Capitaneria di Porto collaborano al progetto che attraverso un drone subacqueo verificherà lo stato di salute dei due fratelli, gli scogli simbolo di vietri sul mare, la cui staticità sarebbe stata messa a rischio dai pescatori di datteri. Esplosivi e martelli necessari per estrarre il pregiato mollusco dalla roccia avrebbero minato la staticità dei due scogli. A lanciare l'allarme nei mesi scorsi erano stati il sindaco di vietri sul mare Giovanni De Simone e il presidente della CNA di Salerno, il maestro ceramista vietrese Lucio Ronca, un alpello al quale non è rimasto sordo il prefetto di Salerno Francesco Russo. Quest'allarme ci è stato lanciato non solo dal comune di vietri ma anche dal maestro Ronca, presidente della CNA provinciale, vietresi che ci hanno appunto segnalato questa diciamo questa allarme temendo appunto che i due fratelli che sono il simbolo di vietri insomma che la rendono famosa nel mondo potessero essere diciamo come dire deteriorati dalle attività abusive di pesca dei datteri di mare. Quindi andiamo a vedere con il drone che è in dotazione al nautico Giovanni XXIII e poi dopo gli approfondimenti saranno fatti dal Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno per capire lo stato dei luoghi. È una grande e importante sinergia insomma. Sì sì è una sinergia, noi ci stiamo lavorando da un po' di tempo proprio per indicare tutti i vari passaggi nel modo diciamo migliore possibile per cercare di realizzare risultati che poi siano tangibili. È previsto successivamente anche l'installazione di telecamere da parte del Comune di Vietri e comunque c'è già alle spalle un'importante attività di controllo da parte della Capitaneria di Porto la quale anche la settimana scorsa ha fatto delle verifiche in loco ma costantemente come sapete proprio l'attività tipica della Capitaneria è quella di verificare lo stato diciamo delle coste. Ci teniamo particolarmente. È un'operazione che coniuga tanti aspetti. La tutela del territorio, la salvaguardia di un bene culturale importantissimo per la città di Vietri e soprattutto quello che a me piace sempre la sinergia tra varie istituzioni. In questo modo contiamo di realizzare risultati importanti ma soprattutto di diciamo come dire anche di lanciare il messaggio di curare con amore il proprio territorio e questo diciamo come dire si penetri i cuori un po' di tutti. La sinergia come ha ricordato il prefetto si è sviluppata insieme alla dirigente dell'istituto nautico Daniela Novi che ha nella sua disponibilità grazie a Fondi Pono lo speciale drone subacqueo che servirà a riprodurre le immagini. La tutela ha creato questa rete e questa alleanza sul territorio per poter disporre ognuno dei propri mezzi. Infatti poi le immagini che verranno elaborate col drone dell'istituto nautico saranno studiate dall'università degli studi di Salerno nella persona del professore Feo Luciano per poter vedere a che punto è il grado di erosione degli scogli e così organizzare future strategie di intervento e di tutela. Alla Capitaneria di Porto di Salerno è il compito di vigilare e coordinare l'operazione mettendo a disposizione i mezzi necessari per effettuare i sopralluoghi. Una volta acquisiti i filmati verranno esaminati dal Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno. Oggi diciamo ha un momento importante appunto sotto il coordinamento del prefetto si è creata questa sinergia tra enti e istituzioni per cui cercheremo ciascuno per la nostra area di competenza diciamo di mettere assieme tutte le forze, tutti gli sforzi e tutte le nostre risorse disponibili per cercare di monitorare questo fenomeno diciamo di erosione che potrebbe esserci in questi due scogli appunto che sono il simbolo anche della città di Vietri sul Mali. Cerchiamo di fare tutti la nostra parte per proteggere al meglio tutto quello che è l'ecosistema marino e costiero. Ed ecco nelle immagini l'avvio delle operazioni dopo la partenza dal Molo Manfredi i mezzi hanno raccolto e raggiunto quelli che sono considerati faraglioni salernitani ed effettuato una serie di riprese. Subito dopo il prefetto e il comandante la preside sono stati accolti e ricevuti grazie al nuovo pontile installato nella marina di Vietri sul Mare dal sindaco ed altre autorità civili per suggellare il patto di collaborazione a difesa e salvaguardia dei due fratelli.